Siti in constriscione del Movimento 5 Stelle di fronte all'area verde di Viale Ancona, dove dovrebbe sorgere il nuovo grattacielo autorizzato con delibera di giunta dal Comune di Venezia. 60 metri di altezza per una ventina di piani con destinazione d'uso commerciale e direzionale. Dietro al grattacielo ci sarà un parcheggio multipiano che non fa volumetria, cioè viene concesso gratuitamente dal Comune al privato costruttore ed è considerato alla stregua di un mero porticato. Questa è un'altra delle tante abnormità normative e interpretazioni fantagiose del PRG che fa il Comune di Venezia. Secondo il piano regolatore vigente, protestano i grillini, si potrebbero concedere al massimo 14.000 metri quadri anziché i 22.500 previsti dalla delibera. Chiediamo al Comune di ritirarle e di ridurre la superficie edificabile per lasciare spazio al verde. Altra abnormità che c'è in questo progetto è la monetizzazione del verde, cioè il verde viene liquidato con del denaro dal privato e perché non c'è spazio per farlo. Anche questa cosa vuol dire minor benessere per i cittadini che vivono la città. In questa zona nasceranno uffici e probabilmente un nuovo supermercato, prevedono i 5 stelle. Nel giro di 200 metri ce ne sono almeno 4. Queste operazioni non giovano a nessuno se non agli speculatori. Il Comune dovrebbe gestire l'urbanistica in modo diverso e promuovere la riqualificazione. Probabilmente adesso saranno 15.000 o 20.000 le case invendute in tutta la provincia di Venezia. E noi ci chiediamo dunque a che pro, a con quale utilità pubblica il Comune autorizzi certe speculazioni immobiliari.